Ed eccoci ritornati anche su Martello. Yes, siccome me l'avete detto voi mi avete consigliato di prendere il martello da fabbro, anzi da artigiano, come arma per cambiarla un po' dal randello che stava diventando un attimo stagnante, mi avete consigliato appunto di prendere il martello da artigiano e l'ho fatto del fulmine più due. L'ho provato un po' e devo dire che mi ci trovo veramente molto bene. E volevo dire un'altra cosa sulla serie di Dark Souls, se dovessi dire delle stronzate durante un episodio non vi preoccupate, sono solo stupido. E perché ogni tanto magari leggo l'hub della comunità di Steam e c'è qualche discussione dove dice per esempio, lo sai che se muori il tuo livello di peso massimo diminuisce e ci sono un sacco di persone che dicono, ma davvero, sì sì hai ragione, poi non è vero mai. Detto questo andiamo avanti, testiamolo subito, vediamo un po' se abbiamo fatto una cosa buona, abbiamo fatto una cazzata. Oh, sicuramente non tolgo come prima, mamma mia magari non in due porca, ottimo, devo prenderci un attimo la mano però col martello. Ora, vediamo, vediamo, magari la maledizione no, magari la maledizione no, ecco, ok, ci vuole un po' di pratica, vabbè che questi sono anche quelli più tosti da riuscire a battere, però, andiamo a due mani. Ole. Beh, 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 dai, vedi, basta prenderci un po' la mano. Apri gli occhi se sei, se sei, se sei ancora in game, sono le dieci del mattino, i vicini mi uccidono. Guarda che stavo per fare una cazzata incredibile, stavo per buttarmi giù. Oh, giusto per curiosità, eh, anche perché devo riempirmi la vita. C'è qualcuno da evocar? E quando mai? Non ho pietre per curarmi? Ma porca miseria. Ah, vediamo cosa riusciamo a fare. Siamo pronti, siamo caldi, scaldiamoci un po'. Dove? Non c'è quello per scaldarci. Non c'è, ah, ok, grazie. Bella la schivata, guarda, è veramente al pelo, eh, veramente. E se io ti mirassi, tipo così? Vediamo se succede qualcosa. Me l'ha data colpita, vediamo la vita. Sì, circa. Wow. Oggi siamo in formissima. Mamma mia, che brutture sto vedendo. Mamma mia, non sono concentrato mai. Chissà se ho fatto la cosa giusta a cambiare da randello a martello. Eeeh, quanto danno! Eh, però, se la stamina mi aiuta. Perché mi sono spaventato che non ho fatto niente di danno alle anime. Sono spaventato per non aver fatto niente. Ma dai che l'avevo schivate, che palle. Eh, vabbè. E sbam, bam, bam. No, la stamina. Oh, no. Dove andrà, dove andrà? Dove andrà? Dove va? Un tremors. Aiuto! Bam, bam, bam. No! Ah, ok, era stordita. Uh! Si è staccato un pezzo. Vabbè, visto che tanto mi colpirà per forza con quelle ma... Guarda, lo schivo girando, lo schivo girando. Oh, ce l'ho fatta! Ma porca troia no! Devo bere. Dai! Girati a favore di telecamera. Perché non glien ho tirato un altro? Eeeh, ecco. Perché, perché sono un cretino, ecco perché. Kevin Bacon, aiutami tu! Adesso è l'occasione. E boom, e boom! Uuuuuh! Nashka, lo scorpione! Beh, è che mi sono spaventato quando le ho tirato il fulmine e le ho tolto un K. Porta, e poi porta. Bruno Vespa, troviamoli. Le miniere di Moria. E sono proprio loro! Le porte di Farros. Vedi che non si sono estinti, mammut. Ok. Backstab? Eeeh, proprio. Leggermente prevedibili i loro attacchi. Oh, io voglio quello scudo lì. Voglio lo scudo loro. Mamma mia. Pezzo di titanito. Vabbè, va bene uguale, dai. Cazzo! Ufff, e ora non mi frega più dell'ultima volta. Aaaaaaah! Tieeeh! A culo dello scorpione nero. Ehm, madonna. Eccolo lì, il genio. Seleziona le magie di guarigione. Che falle... Andiamo a destra. Oh, su. A destra. Oh, su. Andiamo su. Parapam, pam, 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 para. Parapam, pam. Ah, c'è che lui non può so farlo comunque. Che cazzo... C'è la stamina! Uuuuh. No, non mi è più chiaro con un ferro da stiro. Guarda, è uno di quei ferri da stiro delle casalinghe degli anni 40. Delle incudini incandescenti. Facciamo un po' di atmosfera. Guardalo lì. Che si pasticcia, si trastulla. Che fa? Qui posso farlo. Parapam, pam, pam. Notevole, Snake. Mi manca un po' fare le missioni VR di... Di... Metal Gear, le missioni virtual reality. C'erano quelle dove c'era l'UFO, c'era il... Oh, Gavlan! Ti stavo per attaccare! E qua, la gemma vitale. Allora, sai cosa faccia? Oh, no, però non ho voglia di rifarmi due... Così. Perché sono stupido e non lo faccio prima? Andiamo a spenderle anime. Quanto mi serve per salire di livello? 11.000. Sarebbero due livelli. Ricominciamo a fare anche fede, perché così aumentiamo i danni da fulmine. E pompiamo Tempra. La vita la facciamo dopo. E se li lasciassi? Mannaggia, oggi... C'ho la voce... C'ho la gola tutta strozzata. Ma... Ma perché? Per... Mi ha colpito come? Che palle. Adesso non ti sbagliare. Ok. Io lo so che da fuori... Voi vi mangiate le dita, perché mi dite... Oddio, che sta facendo? Dove va? Ma perché sbagliata sto? E che in realtà... Non è così semplice parlare e giocare. Tra l'altro parlare... Al nulla, perché io parlo a voi solo quando carico il video. Qui sto parlando col muro dei miei vicini. Che tra l'altro dasso la loro camera da letto e ripeto, sono le 10 del mattino. Oh oh! Inchia! C'è un'ascia sul mio scudo! Te le paro entrambe, guarda. E mo? A pugni? Eh sì! È diventata una rissa da bar. Oh! Vieni qui! Pezza di merda! Eeeh, perché? Ma non c'è niente. Di qua... Oh! Sfida sul ponte! Tu! Non puoi! Stai calmo, prima di tutto... Dove è andato? Però, secondo me, quell'elmo lì, un po' la mira ve la sminchia, eh? Però sto prendendo l'armatura. L'armatura... Quella bella. Dov'è? Questa qui. Che però, minchia, mi sale a 82%. Sai che è un po' troppo. Io voglio il loro scudo, perché mi sono stufato di portare questo coperchio di pentola. Cava pietra lucente di Zeldora. Oh! Il flash di cosa mi è appena venuto in mente del luogo che c'è dopo questo. E lì mi sa che finiamo la serie. Tanti saluti e non continuiamo più. Guarda questi cinghialotti ciccioni. Che sono più resistenti dei guerrieri Jirm. Oh, mamma mia. Stai fermo, che ti voglio adottare. Stai fermo. Cazzo! Che non ho vita. Che non mi sto cura... Dai. Una cosa fast. Oh! Tutti sti contadini. Frammento di titanite per uno. Cadaveri, cadaveri. Noi dovremmo andare su... No, avanti. Lì. Dobbiamo andare lì. Guarda che bello qui. Albero, albero però! Guarda che bello che è. E va la ruspa che tira su i lavori. Lavorare, questa è fatica. Non ho la gola stamattina per fare queste cose. Non ci riesco. Io voglio quello però. Lo voglio... Adesso. Anima. Grande anima. 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 Questo era tipo un gruppetto di soldati uccisi tutti da un contadino che stava zappando la terra. Vediamo se riesco a fare una cosa che... Mi hanno detto che si poteva fare, ma che io non ho mai fatto nella mia ram perché sono impedito. Questo! La troia. E doi! Ma si può distruggere quello? Per cercare di distruggere quello ce l'ho fatta. Olè. Speriamo che ne valga la pena. Urna di acqua sacra. Vedo... Vedo... Vedo la gente morta. Urrà per vittoria. Effettivamente. Ah, cinque figi umani. E lascia fare. Lascia fare che sono sempre utili. E quindi andiamo avanti. Guarda, babe, maialino coraggioso. Sa quanto sei brutto, però. Oh, no, us! Chissà cosa vorranno fare con quegli enormi cocchi. E' bello che muore anche. Dice, ti è il trampolino, tipo Willy il coyote. Lo faccio anch'io, basta. Fa lei o faccio io? Mi sa che devo fare io, eh. Ma dove? Adieu! Un cazzo proprio, ma porca. Scendo di prepotenza. Ok, cerchiamo solo di non precipitare. Ma dai! Ero l'unico che pensavo di uccidere. Sono tutti con un culo di vita, guardali. Ma guardali! Ma dimmi te se questi stronzi mi dovevano quasi uccidere. Il problema è che il martello... Si tira su con la titanita scintillante. Che non è proprio easy, easy, peasy da trovare. Andiamoci di due mani, facciamo il ribelle. Voilà. Eh, che belli quei ragni. Peter Parker, sei tu? Mannaggia. Mannaggia. Ma porca, guarda. Sono curioso di andare a leggere cosa c'è scritto lì. Mi consenta. Marty, vieni un attimo. Vieni a farlo tu questo pezzo. Va bene, lo faccio. Prego. No, come si fa? Eh, devi cliccare i tasti. Oh no. Non morire però. No, sì, certo. Ti guardi, ti sto vicino. Va bene. Io mi sto cacando un po'. Perché tu non senti i rumori che sento io. Però io li ho visti, dovrebbero scappare. Io ti vedo. Ti sto guard... Sono girato verso di te. Ti sto guardando, vai via. Trappola e poi imboscata. Trappola e poi imboscata. C'è la trappola anche? E famola sta cazzata, famola. Oh merda! Dio! E sto già per morire. Dimmi che muoiono con un colpo. Muoiono con un colpo! Fanno che schia... E' il rumore! Oltre a proprio l'effetto visivo, è proprio un rumore che mi turba. Che poi sono quelli di... E' rimasto incastrato? E' rimasto incastrato? Sono quelli di Half-Life che ti riducevano ad uno di vita. Non sono neanche quelli... Ciccioni. No, io quello lo... E la... Stai lì! Muorici, merda! Grazie che mi sei stata vicino. Ciao. Che palle, lo sento! Lo sento camminare... Oh no, lo devo togliere. Mi fa troppo schifo sentirlo camminare. La congregazione! Quanti fulmini però. Aia! Sai che è possibile che ci muoia? Con una delle cose più stupide del mondo. Proprio perché nell'animazione del backstab non... Non mi... Non diventa immortale. Guarda che muoio! Oh, panchina! Panchina mi ha salvato la vita! Beh, oddio! Un po' di danno credo di averglielo fatto! Li ha curati! Il pezzo di culo li ha curati! Dai, io... Eh beh, io... Per forza muoio sia contro... La congrega... Sia contro... Allora, io vorrei uccidere... Prima lo stronzo... Qua... Ok. E uno è morto. Perché è quello che rompi cojone... Vabbè, anche loro in realtà. Ok. Allora, dov'è? Dosta, venga qui! Ma sì, ma sì... Ok, è morto. E mancano loro però... Aspetti che mi curo con l'ultima fiaschetta... Quanti colpi però vi devo dare? Quanti? E... 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 Oh! E che? E quanto casino per un boss di merda! Però me lo dai un falò? Dammelo il falò! E qui il fal... E qui il falò! Sempre bivi! Sempre bivi! Aaaaaah! Ta-ta-ra-ta-ra! Ta-ta-ra! E madonna, con che velocità! Aspetta! Aspetta! Uhuhu! Uhuhu! Ma no! Che palle l'ho mancato! Vai giù! Vai giù! Aspetta, aspetta che... Fammi prendere gli oggetti! Uhuh! E dai! Che palle! Ma che palle sta parte ogni volta! Guarda che cazzo! Che cazzo! Ma ti levi! Arrivano! Arrivano! Porca! Eccole! Mancava pure l'oro! Mancava! Dai! Porca troi! Ci fastidio sti maghi? No! Non ci credo! E siccome sono stronzo! E so che a voi dà fastidio! Io le anime non le vado a prendere! No! Signore! Però quelle sì! Vediamo se riesco a fare... La provata! Hai visto che provata? Mamma mia! E che... Oggi siamo on fire! Tiè! Le ho riprese! Contenti? Ho ripreso le anime! Resina carbonizzata! Per tre! Buono! Buono! Adoro le resine! Io mi piace dare gli effetti alle armi! Qua... Ci stiamo lasciando tanti posti alle spalle! Tanti tanti! Che poi... Bisognerà recuperare prima o poi! Minchia! Dead Space è diventato! Ok! Ok! Vedi qua tu! Questa zona ha proprio scritto periotobi! In faccia! Ti giuro! Ho fatto l'attacco in salto da... Da un gradino di 10 centimetri! Scendiamo per bene! Scendiamo come gli umani normali! Sai che non mi ero mai accorto dello spruzzo viola... Che fanno quando le colpisci! Giuro! Oh cazzo! È pure il mago! Che palle! Sono vivo come! Sono vivo come! Secondo me si era buggato! Perché non è possibile! Guardalo lì! Faccia di culo! Mamma mia! Da farvi vedere è anche un bordello sta zona! Perché... O vi faccio vedere tutto! O i tagli vi confondono il cervello! Però... Questa è la minestra! O quella è la finestra! Perché vorrei ricordare a chi... Dice giustamente che... Si capisce poco della serie! E che non è un walkthrough la serie! No! No! Io non vi devo spiegare dove sto andando! Io devo solo riassumermi... Riassumervi le vostre... Le... Ma perché non riesco a parlare? Devo solo riassumervi le mie partite! Non è un walkthrough... Sgamato! Né tantomeno... Una guida ufficiale strategica! E semplicemente... Una serie... Come la faccio io! I grandi divertimenti! Ovviamente! Oho! Io questo volevo fare! E torna a tenere la tua cazzo di fattoria! Oho! Vestito da contadino più 5? Ehm... Beh non è... Beh è comunque un vestito da contadino quindi... Dai che faccia moltissimo! Ma se io tipo cambiassi elmo no? E ne mettessi... Uno... Che mi dà un po' più di equilibrio! Tipo... Tipo questo! È proprio imponente questo elmo! Ho il corpo di uno scarafaggio morto in testa! Scendi 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 scendi! Scendi 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 scendi! Non scendono! Non scendono! Scendi scendi! Eccoli! Se mi distrago ancora... Ah genio! Il fai da te ha scelto! Di morire per mano delle spine! Et voilà! Mi curo finché posso! Permesso! Sono belli quei lampadari! Un po' kitsch però... Vabbè insomma... Sono gusti! L'unica rassicurazione che odi quando lotto con i ragni è che li sciotto! L'unica! Perché poi altre rassicurazioni non ce ne sono! Oh che fastidio che mi colpiscono senza che io me ne accorga ogni volta! Ma quanta vita c'ha questo! Apriti... Sesamo! Penna! 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 Ma... Mi ha visto? Mi ha visto? Oh mi ha visto! Yeee! Ah comunque lo sto adorando sto martello! Non vedo l'ora di farlo salire di livello per portarmi avanti questo e non più il randello! Perché effettivamente stava iniziando a diventare un po' una palla al piede! Quel cazzo di randello! Ah e prima i lampadari erano così così! Ma le tende invece sono proprio belle! Chi non le vorrebbe in cucina tipo queste qua? Eeeh mi si appiccicano pure le ciabatte su sto coso! Che noia! Che noia che siete! Facciamo una bella cosa! Eeeh sono molto più be... Sono un bimbo con i baffi! La mia faccia non corrisponde per niente alla mia età! Oh c'è un boss! Chissà che forma avrà questo boss guarda! Con tutti i nemici a forma di ragno! Probabilmente il boss è un cucciolo di foca! Così è proprio ad occhio! Io vorrei evocare Boyd il cavaliere della cenere! Però io lo so che non dovrei mi tocca farlo! Perché non è semplice eh! Devo dire! E l'animazione... Cioè è arrivato da dove? Pensavo fosse un fantasma di un giocatore! Attento! Ecco! Buoni! Partiamo bene Boyd! I riflessi di una sedia! E ci avevo azzeccato! Hai visto? È un cucciolo di foca! Andiamoci subito proprio di giustezza! Se io da lontano facessi questa cosa qua... No ragno 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 non adesso non adesso! Eh non gli tolgo niente! Ma che palle ste cazzo di... No! Aia! Oh curati bravo! Ma cosa avevo schivato? Ma porca troia! Ma cosa che avevo schivato? Dio santo! Madonna! È impazzita! È impazzita! Vomita e scalcia! Vomita e scalcia! L! No! Però ti devi levare Boyd! Veramente perché... Già faccio fatica! Per l'amor di Dio! Che ca... Cosa sta succedendo? No! Cosa succede? No! Devo andare via! È impazzita di nuovo! È impazzita di nuovo! Datemi del volume! Boom! Guarda che ci muore se continuo... No! Se continuo ci muoio io! Guarda che ci muoio! Guarda eh! Guarda che ci muoio perché... Non si... Oh! 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 Freya! L'amata del Duca! Era una bellezza senza pari! Devo dire! Beo! Oggi tre boss! Certo uno fatto... Con... È perché non è facile! Se non ci fossero stati i ragnetti sarebbe stato uno dei boss più facili! Ma in realtà è... Molto fattibile senza! E qua abbiamo... Una... Una delle cose più fighe da vedere secondo me! Yes! Chiedo scusa se è stato magari un... Un episodio un po' sottotono ma in realtà è la... Oh! La gola veramente stretta! Stretta 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 stretta! Eccolo il Duca! Stanza privata del Lord anzi! Piccolo Lord! Dai non fermarti! Piccolo Lord! Vai sempre avanti! E vedrai! Che morirai! La chiave della cava pietra lucente! Il ramo profumato! E l'anello di quarzo oscuro più uno! Voilà! Estremamente costoso? E direi di sì eh! Solo quel calice varrà sì e no 706 terzi! Oh! Oh! Io non vi ho fatto vedere una cosa! Guardalo lì senza testa! E poi lo andiamo a conoscere nel prossimo episodio! Ricordatemelo! Ah! Peccato! Mi dispiace ucciderlo così! Armatura di Vengal! Guanti di Vengal! Si vale di Vengal! Falò primordiale acceso! Yes! Stiamo andando verso la parte finale del gioco circa! Ho saltato tante cose! E' probabile che molte delle cose che ho saltato le farò poi in un episodio a parte! Perché non voglio trascinare la serie di Dark Souls 2 ancora tanto a lungo! Non perché mi sia stancato! A me diverte sempre giocare a Dark Souls! Ma voglio farvi vedere altre cose! Voglio farvi vedere altri giochi! Ma finché Gastani Frinzi c'è! Noi siamo contenti! Grazie!